Io mi sono specializzato in medicina e nello sport negli anni Ottanta a Chieti, allora diretta dal mitico professor Leonardo Vecchiet, diventato famoso come il medico della carnitina, perché allora era il medico della Nazionale di Calcio e la Nazionale di Calcio si qualificò in maniera stentata ai mondiali in Spagna, dopodiché invece in Spagna, e dissero grazie all'uso della carnitina, i giocatori migliorarono progressivamente la loro forma fisica fino a diventare invincibili e conquistare la gognata Coppa Rimet e diventare quindi campioni del mondo. Ebbene, a parte questo aneddoto, in effetti la carnitina è una molecola molto interessante, utilizzata da tempo anche in cardiologia proprio perché aiuta il cuore a funzionare meglio, tanto è vero che è rappresentata in maniera importante, così come nel cuore, anche nel muscolo. Difatti è un dipeptide formato da lisina e metionina che il nostro fegato soprattutto sintetizza e si trova appunto poi prevalentemente nei muscoli nel cuore, per cui noi la introduciamo in maniera esogena, soprattutto alimentandoci con la carne. La carnitina, il cui compito fondamentale è quello di fungere da trasportatore degli acidi grassi all'interno del mitocondrio, dove possono essere utilizzati a scopo energetico, in presenza di ossigeno, per produrre appunto ATP. Appare quindi ovvio che l'uso della carnitina è particolarmente utile per gli atleti che fanno degli sport di endurance, cioè degli sport aerobici. proprio perché permette un maggior utilizzo degli acidi grassi, che sono quei principi attivi che possono essere utilizzati solo nello sport di tipo aerobico e non in quello anaerobico. Però in realtà la carnitina è efficace anche nel migliorare la prestazione degli sport di tipo anaerobico, perché in realtà riducendo il consumo di glicogeno e di conseguenza diminuendo la produzione di acido lattico, praticamente fa sì che ci sia un ritardato esaurimento del glicogeno e quindi anche una ritardata insorgenza della fatica e quindi migliorando anche le prestazioni di potenza, soprattutto quelle che devono essere protratte un po' più a lungo. La carnitina, dal punto di vista dell'allenamento, esercita tra l'altro anche un altro effetto. Si è visto che l'utilizzo della carnitina a dosaggi di 2 grammi è in grado di diminuire i dolori successivi a un allenamento soprattutto di tipo eccentrico, i cosiddetti DOMS. La carnitina, inoltre, proprio in quanto ha questa sua capacità di favorire l'utilizzo dei grassi a scopo energetico ovviamente è stata presa in considerazione anche come molecola favorente al dimagrimento e di fatti vari studi dimostrano l'efficacia di questa molecola in questo senso. Inoltre, la carnitina è anche in grado di prevenire quel catabolismo a carico della massa muscolare che avviene spesso nelle diete dimagranti quando la restrizione calorica è magari eccessiva. Inoltre, la carnitina ha anche un effetto anti-ingrassante cioè anti-adipogeno, proprio perché agisce direttamente a livello epigenetico sui geni che favoriscono l'adipogenesi sopprimendoli. Quindi la carnitina, ovviamente, è una molecola molto importante e soprattutto per certe categorie. Quali sono? Abbiamo già accennato che è presente nella carne quindi i vegetariani che non assumono carne possono facilmente andare incontro a una carenza ma anche negli anziani sopra i 70 anni c'è una diminuzione della produzione di carnitina è consigliabile anche in coloro che praticano una dieta chetogena con un'alta concentrazione di grassi quindi una dieta iperlipidica proprio perché ne favorisce l'utilizzo a scopo energetico e ovviamente è anche utile per tutti gli atleti come abbiamo visto sia e soprattutto di Entonance ma anche di sport di potenza. i dosaggi normalmente vanno da 1 a 3 grammi e sono in relazione al peso corporeo all'attività fisica al tipo di attività fisica praticata e anche al tipo di dieta seguita.